Anche il gruppo Nuova Maglio Fungorobica quest'anno ha giocato le sue Olimpiadi. In effetti con il Brasile è nata una sintonia che ha allungato la filiera ma a favore della solidarietà. Un progetto molto interessante, che è piaciuto, sta trovando riscontri, che punta a unire la qualità del prodotto anche alla qualità della vita per un popolo lontano e ancora bisognoso. Come mai? L'idea era proprio quella di coniugare queste due cose, perché la frutta esotica si sta facendo uno spazio crescente nel mercato grazie al fatto che con il trasporto via aerea e una logistica organizzata meglio che in passato riesce a portare al consumatore italiano una frutta decisamente gradevole da mangiare e che gli italiani stanno scoprendo, come anche i trend di consumo dimostrano, come un prodotto che si può affiancare anche nel quotidiano al consumo della nostra frutta nostrana senza con questo andare a cambiare quelle che sono le abitudini e i costumi alimentari, semplicemente aggiungendo qualcosa di nuovo. A questo noi abbiamo aggiunto un progetto per trade che già avevamo sviluppato in Ghana con Coop, con il marchio Solidal e che stiamo quindi allargando adesso al Brasile, ma con una vera e propria gamma di prodotti tropicali, quindi con un pacchetto di prodotti ortofrutticoli che vanno dal melone gialletto all'ananas, dal maracujà alla noce di cocco, il lime, mango, papaya, quindi poter offrire nel punto vendita Coop una gamma di prodotti ampia che il consumatore può trovare con soddisfazione tutto l'anno anche cambiando i vari gusti tropicali, potendoli anche combinare tra loro e quindi scoprire anche nuovi sapori. Quindi un nuovo modo di giocare alla globalizzazione tenendo alta anche il diritto della redditività di quelli che sono i produttori. Voi avete tra l'altro selezionato una delle zone del Brasile con una maggiore vocazione proprio all'agricoltura e alla produzione di prodotti di altissima qualità e soprattutto avete dato anche una risposta in termini di efficientamento del lavoro oltre che proprio di lavoro alle persone locali. Sì certo, si è creata una combinazione secondo me particolarmente fortunata nel senso che il Brasile chiaro non è più un paese sottosviluppato, lo sappiamo, fa parte del BRICS quindi è un paese che non è più come tanto tempo fa un paese del terzo mondo come si diceva è un paese che è cresciuto tanto ma che ancora ha anche tante aree, tante sacche di povertà e l'area del nord-est, noi stiamo parlando della zona del Rio Grande do Norte è una zona che se è felicemente conosciuta per il turismo lungo la costa verso l'interno, la zona agricola, rurale, sicuramente è una zona dove c'è ancora molto bisogno anche e soprattutto per le famiglie di piccoli agricoltori di tanto sostegno. Quindi il nostro progetto fa parte proprio di una filosofia in cui il produttore oltre ad avere la copertura del marchio flow, del marchio di fair trade internazionale la garanzia di un prezzo equo ma c'è anche in affiancamento un progetto di solidarietà che sceglieranno i nostri fornitori, cioè gli agricoltori sceglieranno dove destinare una quota di quello che risulterà dalla vendita di questo prodotto a un progetto che loro decideranno come per loro il migliore, si sta parlando per esempio per capire di un asilo per i bambini oppure di un sostegno per le famiglie più povere saranno loro a scegliere il progetto che noi finanzieremo attraverso questa vendita di prodotto fair trade e trovo che questo sia una bella combinazione in una zona dove questi frutti tropicali hanno un'area avvocata per eccellenza, quindi sono zone dove il mango, la papaya, maracujà vengono quasi spontanee e sono piante proprio autoctone di queste zone per cui valorizziamo un prodotto tipico di quel territorio con la massima qualità e con la solidarietà verso comunque queste famiglie agricoltori che sono senz'altro alla ricerca di soluzioni che gli permettono di vivere dignitosamente. Per organizzare direttamente il lavoro voi avete fatto anche degli investimenti diretti? Il nostro investimento è stato proprio di andare a cercare fisicamente, non è stato un contatto via telefono, siamo andati là, abbiamo incontrato queste persone, abbiamo proposto il progetto, abbiamo coinvolto le istituzioni locali, il Sebrae del Rio Grande do Norte per esempio, oggi abbiamo anche incontrato l'ambasciata del Brasile in Italia proprio perché c'è un interesse anche a valorizzare un turismo rurale che è molto interessante, che si sta sviluppando in Brasile e che può diventare un'altra fonte anche di reddito alternativo per gli agricoltori e cercheremo di promuovere queste cose attraverso questo progetto in Italia perché pensiamo che il cibo deve sempre anche avere una valenza che non va oltre il semplice godersi qualcosa da mangiare. Veniamo al sogno nel cassetto, questo paniere tropicale di frutta esotica, quante referenze conterà? Allora, ad oggi sono otto sicure, però diciamo che siamo anche un po' partiti, siccome comunque non dimentichiamo che la frutta esotica in Italia, a parte le banane e l'ananas, non è che sono ancora così conosciute. Quando si va in questi paesi ci sorprende sempre la prima volta di quanti tipi di frutti, anche nuovi, diversi, particolari sono consumati in questi luoghi senza che arrivino in Italia o che arrivino solo magari nella cesta natalizia e quindi siano considerati un consumo occasionale, mentre lì sono un consumo quotidiano. L'idea è poi man mano di allargare dalle referenze che nominavo prima, le più famose, chiamiamole così, già più conosciute anche qualche frutto, per esempio il caju, la serola oppure la graviola, la goiava, che sono frutti consumatissimi dai brasiliani del posto ma che in Italia ancora non sono conoscete e che hanno non solo un buon gusto ma sono anche prodotti che dal punto di vista nutrizionale, la graviola per esempio è considerata un frutto che combatte il cancro proprio attivamente, per esempio ci sono molti studi su questo, ecco far conoscere questi frutti anche per le loro proprietà nutrizionali che sono assolutamente di grandissimo interesse.